Ben arrivato a Pescara, dopo qualche tempo, trattative l'estate, qualche anno fa, alla fine vesti la maglia della tua città, credo che sia motivo di orgoglio per te. Sì, sono contentissimo, sono orgoglioso di questo e finalmente. Cosa hai pensato quando ti è arrivata la chiamata del DS Matteassi e del presidente Sebastiano? Sinceramente non vedevo l'ora di cominciare, speravo che andasse tutto un porto come dovevo andare e così è successo. E ora va bene così, darò tutto per questa maglia, poi è sempre bello, è casa mia e non posso fare che dare il massimo. Latina, Frosinone, Entella, hai tantissime partite in categorie superiori, cosa pensi di poter dare a questo Pescara? Io devo dare tutto, non è quello che posso dare, non posso, devo dare Alessandro e devo fare sempre bene. Devo lavorare per stare bene e dare tutto quello che posso dare alla squadra, contro quello e contro la maglia. Abbiamo capito che potresti fare l'esordio domani, sei un po' emozionato? Guarda, decida il mister, io quando mi chiamerò in causa sono pronto, quando vuole ci sono, poi sono scelta nella torre, io sono qua per dare una mano al Pescara, non a pensare a me stesso. Ma quello che volevamo capire è che se quando vestirei per la prima volta la maglia del Pescara un po' di emozioni ci sarà oppure come se fosse un'altra partita? Vabbè quello sicuramente, però devo solo pensare a fare bene, non posso mettere l'emozione avanti ad altro. Bocca al lupo. Crepi, grazie mille. Ciao Vale. Ciao.